E' tinta di giallo la morte di una donna di 32 anni, Deborah Pagano, originaria di Letoianni e trovata senza vita ieri nella sua abitazione a Macchia di Giarre nel Catanese. La donna viveva con il marito, un quarantenne di Giarre e la figlia di 7 anni. L'uomo ha dato l'allarme intorno alle 17 di domenica raccontando di avere trovato la consorte priva di vita riversa sul pavimento del bagno. All'arrivo dei soccorritori è stato subito chiaro che per lei non c'era più nulla da fare e dopo i primi accertamenti condotti dai carabinieri della compagnia di Giarre è emerso che il cadavere sarebbe rimasto in quella posizione per almeno due giorni. Il marito, dopo essere stato interrogato tutta la notte, adesso è stato fermato con l'accusa di omicidio. La notizia è stata confermata dal legale dell'uomo, Salvatore Larosa. Il penalista ha sottolineato che l'autopsia non è stata ancora fissata e che dall'esame autoptico potranno emergere risultati che potrebbero ribaltare la tesi dell'accusa. Il mio assistito ha aggiunto il legale del quarantenne, ha trovato la moglie morta a casa venerdì sera, ma ha avvertito il 118 soltanto ieri. È rimasto due giorni sotto shock, senza riuscire a capire cosa fosse successo e neppure lui sa spiegare bene il perché. Per quello che risulta a noi, ha continuato l'avvocato, la famiglia non aveva problemi e nessun contrasto c'era stato tra i due coniugi che vivevano una relazione tranquilla. La figlia della coppia non si trovava in casa perché era con i nonni alle tuoi anni. L'uomo è stato sottoposto ad interrogatorio tutta la notte, mentre la vittima è stata trasferita nella camera mortuaria dell'ospedale Cannizzaro di Catania, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Come detto, la 32enne era originaria di Letoianni e i genitori ospitavano la nipotina per il weekend. La madre, una volta presa la notizia della morte della figlia, è stata colta da un malore e condotta all'ospedale di Taormina. Sgomenti i familiari, gli amici della giovane e tutti i letoiannesi che le hanno rivolto dei pensieri sui social network, ancora increduli per questa morte improvvisa.